Battenti aperti da nemmeno un giorno ed è subito boom di presenze per Mito Bike, mostra in rassegna a Piacenza Expo dedicata al mondo delle due ruote. Già centinaia gli appassionati che fin da questa mattina hanno preso d'assalto i botteghini del quartiere feristico di Lemose per conoscere le novità di questa edizione e tutto ciò che hanno da offrire gli oltre i 200 espositori presenti, dalle bici alle moto di tutte le case motociclistiche, oltre ad auto, ricambi e accessori di ogni tipo. Gli organizzatori quest'anno si sono dati da fare per ampliare il settore moto, che comprende tutti i più grossi marchi del mondo motociclistico, come Ducati, Honda, Yamaha, Kawasaki, Vespa Piaggio, Harley Davidson, Moto Guzzi, Match, Benelli e tanti altri. La fiera è suddivisa in tre settori, All Bikes, ossia il mondo della moto nella sua totalità, Custom e Vintage, sezione con tutto quello che comprende ricambistica ed esemplari delle due ruote d'epoca. Il tutto con la collaborazione di numerose associazioni piacentine specializzate nei vari settori. Non mancano inoltre le esibizioni delle moto, che sfrecciano all'interno dei padiglioni per mettere in mostra tutta la loro potenza. Una delle domande che si sono posti in molti visitatori è chi vincerà la Harley Davidson Iron 883? E' questo infatti il modello che viene messo in paglio dal concorso abbinato ai tre settori della moto. Per partecipare e avere tutte le informazioni si può visitare il sito www.mito.bike. La rassegna sarà aperta anche domani dalle 9 alle 19. In contemporanea sarà in programma anche il mondo elettronica, dedicato agli amanti dell'elettronica e del radiantismo. Per partecipare e dell'elettronica e dell'elettronica e dell'elettronica e dell'elettronica.